Buongiorno, scusate per i capelli, ma io di sera li ho lavati, stanotte sono andata a letto così, con i capelli legati, ancora non li ho sciolti, poi li scelterò a due ore a stare a letto, perché mi sono leggermente fatica, comunque eccoci. Comunque, come state oggi? Ah, io ho i bottini tutto bene, non parte il fatto che non ho internet nel telefono, mi girano un po' i cosiddetti, quindi... Madonna, i serpenti, ovvia! Comunque, poco fa sono stata, cioè sono andata alla copp, perché dovevo prendere questo, che dobbiamo scegliere i prodotti che vogliamo comprare per andare via quando andremo in montagna. Quando andremo giù, su, cioè giù, su, ancora non l'ho nemmeno sfogliata, infatti mi provo di aspettare i miei ragazzi, a me lo si fa insieme in solda. Vi devo dare una notizia. Per guidare mi hanno consigliato di mettermi gli occhiali. Sì. Non è che abbia tantissimo di perdita di gradazione per di cuocio, lo 0,25 devo allo 0,50, in questo ci vedo meno, però... ho consigliato comunque di usare gli occhiali per guidare, perché almeno così sforzo meno gli occhi e si riposano di più. Questo vedendoci meno sforzo di più, questo almeno così dovrei aver risolto il problema. Ah, poi vi volevo far vedere questa macchinetta che vi ho regalato nei miei suoceri del caffè, che è quella della fiorfiore. si accende da qui, da questo testino qui, infatti, poi questo lampeggerà e bisogna aspettare che si... che si fermi da sola, poi quando c'è il caffè, schiacci questo, poi da qui sempre la rispengi, la scialda va messa qui dentro, infili questo, non mi riesce più ora... se mi riuscisse... se mi riuscisse... con una mano sola... ecco... aspettate... vediamo se così mi riesce... questo va tirato giù, questo... questo qui va tirato giù... infili questo... non mi riesce più ora... perché qui c'è qualcosa... no, quella... scusate... questo va su... questo va giù... schiacci... poi non mi avevo già detto... accendila qui... quando prima resta pigi... fai il caffè... poi la rispengi... molto... molto... è molto comoda invece... la mocha... la mocha... ci mette tre anni... invece con la macchinetta... questa qui... in 3-4-8... come le fate il caffè... adesso... un mercato... un mercato... poi a breve... a breve... quando andrò a sciare... vi farò un video... dove vi faccio vedere... la borbara... e poi... andremo là... da sotto... da fine pista... vi farò vedere... una pista... che... che vogliamo fare... o che faremo... non... se è aperta... non si sa... poi... non vi dico qual è... poi ve la farò vedere... cioè... ve la farò vedere... e vi dirò anche qual è... però ve la faccio vedere... quando si va... perché... chiaramente... ora... comunque... adesso... il caffè... mmm... fra un po'... non dovrebbero... sorgere gli sociali... e il fidanzato... che tra l'altro... ancora... non ho nemmeno chiamato... per... prendere... prendere gli occhiali... ma... mi chiameranno... alla prima... molto probabilmente... no... non... non... allora... prima ero tutta euforica... perché volevo gli occhiali... però adesso... so... che... mi hanno inserito di metterli... non è... però... tutto... noi... non li ho comprare... no... ma... vedo di difficile... che comunque alimenta... torno a stata a casa con il golf... perché c'ho... sembra un pupistrello... comunque... non so... dove è andato a finire... dove c'è che è andato il cane? il... il... dov'è... o dov'è... ah... amore... sei qui... come siamo belli... vivi... vivi... bollino... tu sei? assone... bambini... comunque... eh... c'ho un po' di casino... non ho manco rifatto il letto ancora... prob... ok... allora... comunque... poi vi farò... vedere gli occhiali... quando li avrò... voi fatemi sapere... quale video vorreste... che facessi... e ve lo farò... vi mando... un grosso bacio... mi raccomando... spolliciate... mettete davanti i pollici... lasciatemi tanti commenti... io vi mando... un altro grosso bacione... ci vediamo al prossimo video... ciao...